Il comparto produttivo, il cuore pulsante della Toscana deve ripartire. L'appello congiunto dei sindaci e dei presidenti delle province di Siena, Arezzo e Grosseto e del presidente di Confindustria Toscana Sud è appunto per la riapertura in sicurezza dei settori economici strategici per la Toscana del Sud. L'economia della Toscana del Sud, si legge nel comunicato, non può aspettare che si verifichino su tutto il territorio nazionale le condizioni della riapertura. È necessario fare una valutazione di territorio e delle condizioni necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori per la prevenzione del contagio da Covid-19. Ci sono interi settori che, se la chiusura si protrarrà fino al prossimo 4 di maggio, rischiano di perdere completamente le condizioni economiche per poter proseguire la loro attività. L'effetto sarebbe l'impossibilità di riaprire per mancanza di ordinativi con ricadute sull'occupazione drammatiche. La procedura anticipata potrebbe riguardare le imprese che possono dimostrare ordinativi da eseguire con particolare riferimento a quelle che esportano e che rischiano penali per mancate consegne. Le imprese a cui la chiusura determina un forte rischio occupazionale, le imprese che per operare possano dimostrare la possibilità di reperimento di materie prime e ancora quelle imprese che per dimensioni e settore operano in filiere strategiche per l'economia del territorio.